Siamo in Sierra Leone Ma potremmo essere in qualsiasi paese dell'Africa nera E quello a cui stiamo assistendo è un rituale magico di purificazione Ovviamente noi non sappiamo se quello che sta usando sia veramente sangue o un intruglio colorato Ma è certo che quest'uomo, come vedremo dopo, è disposto a fare sacrifici che vanno oltre ogni immaginazione Stiamo parlando dei ritual killings, ovvero omicidi rituali di esseri umani Che ancora oggi vengono praticati nelle culture tradizionali africane Era il 4 dicembre 2016 quando il Sierra Leone Telegraph titolava Ragazzina di 10 anni uccise e brutalizzata nella regione di Kono Asportate alcune parti del corpo E più sotto, come se fosse la cosa più normale del mondo, pubblicano pure una foto Ma questo non è un caso isolato Sempre in Sierra Leone, a giugno, un famoso DJ della capitale aveva fatto la stessa fine Lo stregone Luck ha ucciso DJ Clef per un rituale Al fine di acquisire la sua bravura e la sua potenza Lo hanno barbaramente ucciso ed è stato ritrovato senza più né occhi né genitali Crimini violentissimi, purtroppo non isolati Legati a delle credenze ancestrali fatte di erbe medicinali, spiriti maligni e riti tribali Chi conosce bene questo fenomeno è il professor Coroma Pensate, l'unico medico legale di tutta la Sierra Leone Chi muore in questo paese passa dalle sue mani La credenza popolare è che un rituale umano possa essere d'aiuto per accumulare ricchezze O raggiungere un traguardo importante come una carica politica Politici saranno qui, i chiefs, qualcuno cercando di fare un grande lavoro, promozioni e tutto questo Vanno al DJUMAN e dicono You know what, my friend, you have to do something like human sacrifice It can be anybody, it can be a police, it can be a judge, it can be a director, it can be anybody I rituali che vengono eseguiti sembrano presi da un film dell'orrore E la cosa drammatica è che coinvolgono quasi sempre dei bambini Some people remove the skin because they want to use them They degolf, like gloves you're wearing If you cut here, cut here, you can easily remove all the skin So as to create a glove of human skin? Yes Mostly in boys, they remove the testicle because you're powerful sexually Sometimes they roast and they eat What about girls? Well, they remove the, yeah, everything that is in the pelvic basin All is about power, all is about domination, heart, wealth Le foto che ci mostra sono raccapriccianti, teste mozzate, ragazze fatte a pezzi, organi mutilati La Sierra Leone, che oggi ci sembra un paese tranquillo e pacificato, ha vissuto una guerra civile violentissima Le immagini che ci ha trasmesso la storia sono fatte anche di bambini soldato che in preda droghe allucinogene Tengono il cuore di un nemico in mano E poi, solo pochi anni fa, l'epidemia di Ebola, che ha fatto una strage Un rapporto con la morte dettato dal fatalismo Un paese prevalentemente rurale, fatto di villaggi sperduti nella foresta Lontani da tutto, ma saldamente legati a tradizioni e credenze animistiche Questa donna si chiama Gina E da alcuni mesi vive attaccata a un tronco di legno molto pesante I familiari lo hanno inchiodato attorno alla caviglia con un grosso gancio di ferro Alcuni mesi fa Gina è sparita nella foresta e per 18 giorni nessuno ha saputo nulla di lei E quando l'hanno ritrovata, aveva questa espressione stralunata che vedete oggi Suo padre, ma anche tutto il villaggio che nel frattempo si è raccolto intorno a noi Crede fermamente che la ragazza sia stata rapita da dei demoni E per evitare che succeda di nuovo, la costringono in questa situazione Gina parla poco e ripete sempre la stessa frase Anche la sorella di Gina ribadisce la stessa versione Cioè guarda praticamente è inchiodata questo legno Non ha modo di liberarsi perché questo è un gancio di ferro duro Tra l'altro deve fare anche, deve anche dare molto fastidio Qua ci sono dei chiodi che raschiano pure contro la pelle Cioè anche solo dormire deve essere un incubo Questo è ciò che succede in un villaggio qualsiasi della foresta della Sierra Leone Dove una donna con problemi mentali è costretta a prascinarsi un tronco al piede per il resto dei suoi giorni Ma basta spostarsi in un altro villaggio per trovare un'altra storia legata alle credenze popolari Siamo arrivati a Seguema che è un villaggio dove non molto tempo fa Il bambino è stato ritrovato in un bosco qua vicino Pare che sia stato ucciso da uno stregone È successo al piccolo Joseph, morto a soli tre anni Questo è l'ispettore che ha ricostruito la storia Il bambino è venuto attraverso questo curatore tradizionale Che promesso di curare il bambino Il bambino è attraverso questo bambino in un bosco e lo lasciato là Perché lo lasciare in un bosco? Secondo il curatore tradizionale, il bambino è un uomo in una formazione humana Il bambino è stato lasciato il bambino in un bosco Perciò che il bambino sia trasformato in un uomo e farlo Un bambino di soli tre anni, morto abbandonato nella foresta Nell'attesa che il demone in lui si reincarnasse in un serpente Accompagnati dai poliziotti, in tre su ogni moto Andiamo verso il luogo dove è stato ritrovato Il villaggio di Joseph è formato da una decina di abitazioni E la foresta tutto intorno A casa della nonna, dove viveva, troviamo sua sorella Non ci sono dubbi nelle parole della sorella Le facciamo vedere la foto dello stregone E la piccola lo riconosce subito Ma chi era quest'uomo che incuteva così tanto rispetto e timore Da affidargli un bambino di tre anni tetraplegico? Chiediamo ai vicini, ma nessuno sembra sapere niente Se chiedi a chiunque qui in Sierra Leone a che religione appartiene Ti risponderà che è musulmano oppure cristiano Ma spesso ti accorgerai che addosso portano i segni di culti ancestrali Sono tagli protettivi che vengono fatti ai bambini quando sono piccoli Ci spostiamo fuori dal villaggio A lavorare nei campi ci sono un sacco di ragazzi E tra questi c'è anche Mohammed Colui che per primo ha trovato il piccolo Joseph Il posto dove l'hanno trovato è lì vicino Lo stregone con il piccolo tetraplegico in braccio Aveva trovato questa puzza di fango ricoperta di fogliame E l'aveva lasciato lì Povero bambino, tre anni, immaginati che cosa deve aver patito qua Se stai fermo per cinque minuti viene assalito dalle zanzare, dagli insetti Ed eccolo qui lo stregone assassino, ammanettato Mentre mostra ai poliziotti dove ha abbandonato il piccolo Joseph Andiamo a cercare il padre del bambino Allora abbiamo appena finito di parlare con il papà del bambino morto nella foresta Nel frattempo è venuto buio e ci siamo ritrovati in un villaggio dove non c'è corrente elettrica Per farvi capire, guardate che cosa si vede nel momento in cui spengo la luce Il buio assoluto Come il buio che avvolge la medicina tradizionale qui in Africa Pochi ammetteranno di essere mai stati da nostro egone Ma ogni mercato ha delle bancarelle stracolmi di erbe, bacche, ossa e fetici Qui si usano per qualsiasi esigenza, da quella più sacra alla più profana Ma a parte gli scherzi, la magia nera è un problema sociale in Africa Lo sa bene Joseph che con la sua associazione cerca di combatterla La maggior parte le vittime sono da un background che, posso dire, piccolo Vittime, sì, ovviamente, in un buon numero Poi, in un'autorità più alta, persone che hanno money Perché se non hai money, non puoi pagare per un uomo Se hai bisogno di un uomo, hai bisogno di pagare per qualcuno Per prendere questo Stoppendo questo, abbiamo bisogno di andare in una comunità Ma basta girarsi intorno e si trova di tutto Ma basta girarsi intorno e si trova di tutto Ma abbiamo ascoltato anche di un uomo E abbiamo bisogno di queste cose E a volte abbiamo bisogno di qualcuno, di un nome, per spostare Per andare a questo Do you know anyone who performs this? Yes Ma abbiamo ascoltato anche di un sacrificio umano Yes, le persone fa questo Do you bring us to this guy? No problem Ok, let's go Ci lasciamo alle spalle la città di Kenema E raggiungiamo un quartiere ai margini della foresta Qui abita un guaritore tradizionale Appena dentro, l'uomo tira fuori, da sotto il letto, un piatto arrugginito Pieno di oggetti bizzarri Questo è un pezzo di mascella di cane Vedi che si vedono i denti Attaccato a un orecchino da donna Praticamente una delle credenze qua è che se riesci a staccare la ciocca di capelli di una persona e ci cammini sopra, quella persona diventerà pazza Ah, peli pubici Ogni tanto le mogli quando sono incazzate col marito, glieli rubano, glieli strappano, gliene prendono un po' e in questo modo gli fanno una maledizione in modo che lui poi non funziona più E qui capiamo che forse abbiamo toccato un argomento molto delicato La sua espressione è nettamente cambiata Non sorride più Ma noi vogliamo incontrare uno stregone vero di quelli che si spingono oltre E dopo due giorni ci riusciamo E uno conosciuto nell'ambiente perché effettua sacrifici umani Una persona molto pericolosa Ottengo un incontro con la scusa più classica Sono un politico e voglio vincere le elezioni E il mezzo più efficace per ottenere potere ce lo svela senza troppi giri di parole Le parole di quest'uomo fanno venire i brividi Oltre al sangue ci spiega che anche la pelle umana dà un potere immediato A rimediare il cadavere di un bambino o di una vergine ci penserà lui stesso Può farlo anche subito dice Quello che dobbiamo portargli noi sono gli oggetti necessari a compiere il rituale Un panno rosso, uno bianco, una boccetta d'olio E infine una bacinella di plastica Probabilmente per metterci dentro gli organi della vittima Ovviamente noi ci fermiamo qui Persone come lui disposte a fare a pezzi un bambino per 300 euro Sono estremamente pericolose Vi sembra impossibile? Purtroppo non lo è Tre mesi fa in un campo nella regione di Cono Sono stati ritrovati i resti di Fatimata Una bambina di 12 anni Il corpo della bambina è stato ritrovato dissezionato in quattro parti Della testa non c'era traccia Era stata abbandonata in un prato più distante Con la pelle della faccia scarnificata dal cranio Come se tutto l'odio del mondo si fosse accanito in quel momento su di lei Questo comandante di polizia è stato uno dei primi a vedere il corpo martoriato della bambina I sospetti si concentrano subito sul padre della bambina Prima di morire la figlia era con lui Viene portato in questa cella di pochi metri quadrati Confessa subito di essere stato lui E di aver fatto tutto con la complicità di alcuni parenti Ci dirigiamo verso il villaggio di Fatimata della sua famiglia Chi era questa bambina che è stata uccisa in un modo così atroce? Cosa sognava? Che aspetto aveva? Questa era la casa di Fatimata Ecco la stanza della bambina Tutto è rimasto fermo al giorno in cui è stata uccisa La prima cosa che notiamo è la divisa scolastica della piccola Poi c'è il suo zaino, un rosario E queste sono le sue scarpe Della madre non c'è traccia E nemmeno dei suoi fratelli e sorelle si sa più nulla Come se fossero scappati all'improvviso Dopo questa storia Adesso cerchiamo di scoprire dove sta la mamma Chiediamo a una vicina di casa Questa era la sua classe, la terza media Sulla lavagna, accanto all'ultima lezione d'inglese Hanno dovuto correggere il numero delle bambine Il suo banco è ancora lì, sotto la finestra E questo è il suo professore Sono le 5 del pomeriggio Ed è già ubriaco Eh sì, perché il padre non è stato il solo a compiere l'omicidio Nel villaggio vivono anche le famiglie dei suoi complici Niente, dicono tutti la stessa cosa Queste sono tragedie nelle tragedie Perché quando poi vengono coinvolte altre persone Lasciano delle famiglie di 5, 7, 10 persone Che non hanno più i mezzi per sfamarsi Perché il padre era l'unico che portava a casa da mangiare Questa è la casa dell'altro accusato Quello che secondo gli investigatori avrebbe portato gli organi di Fatima via da qui in motocicletta Eccolo tra le mani della moglie L'altro dei presunti complici dell'omicidio di Fatimata Abbiamo trovato finalmente la madre di Fatimata Che si è trasferita in un altro villaggio È nata a stare da alcuni parenti How are you? Nice to meet you I'm Pablo Hello How are you, buddy? Cono Cono, ok Guarda che carina Questa bimba che mi è saltata in braccio È la piccola Rebecca È la sorellina di Fatimata È stata anche l'ultima a vederla viva Why did you leave your house? How was Fatimata? Was your husband a violent man? Do you have a picture of Fatimata? Sì Ne sono rimaste solo tre Ed ecco che finalmente Fatimata non è più solo un corpo fatto a pezzi Ora ha un volto In questa foto rovinata dalla muffa ha solo pochi mesi In quest'altra era un po' più grande Assieme alla mamma e al papà Una famiglia all'apparenza felice E infine la sua ultima immagine Ha i capelli raccolti dietro la testa Un vestito verde che la rende graziosa e sorride Ignara della fine che la aspetta Vittima innocente di un sacrificio umano E infine la visione Grazie a tutti.